Mentre ombre oscurano l'orizzonte del mondo, questo ha bisogno di pace come è più del pane. Queste le frasi che Papa Benedetto XVI ha rivolto ai fedeli nella prima messa dell'anno e sono per l'appunto queste le parole chiave del cristiano per il nuovo anno. Per i cristiani l'anno è un anno che si apre con la benedizione del Signore. Perché noi potessimo proiettarci con quella ricchezza che la parola stessa di Dio ci dona e cioè quello di essere espressioni dell'amore di Dio nel segno della carità, della giustizia, della legalità, dell'uguaglianza, della condivisione con queste persone che vengono da altre nazioni marturiate dalla guerra per ricevere qui un conforto di accoglienza, di integrazione. Questo significa accogliere Gesù che ci chiede di aprire la nostra porta perché noi potessimo davvero arricchire la nostra umanità. Il significato può ancora allargarsi. In tutto quello che noi facciamo deve essere un dono d'amore. I bambini quest'anno hanno voluto addobbare l'albero del Natale non con i segni del benessere, del folklore, della luminosità ma con la realtà della vita, cioè con i valori che porta con sé la vita che si richiamano proprio alla bontà, all'uguaglianza, alla giustizia, alla pace, al bene. Diceva una bambina e chiudo Quando io vedrò terminare le guerre allora prendo un albero e lo addobbo con le stelle quel giorno davvero è Natale.